Cristina Bufi-Petro Revisore-Tri Tra 15 anni si usherà l'elettricità più per le auto che per la luce. A che appartiene questa frase? Chi dice Jeff Bezos? Ok. Chi dice Elon Musk? Ok, è un'idea. Vedo ancora qualcuno indeciso. Forse avete ragione e voi indecisi, perché tra 15 anni si usherà l'elettricità più per le auto che per la luce, è una frase di Thomas Edison, pronunciata nel 1910. E oggi, dopo cent'anni, vediamo che le nostre strade sono tutte ben illuminate, ma di auto elettriche non ne vediamo tante. Com'è possibile che un genio come lui avesse sbagliato di così tanto nella sua previsione? Che cosa ha dato storto? Io mi occupo di ricerche in ambito motoristico, e oggi vi condurrò nel percorso della rivoluzione che coinvolge l'auto elettrica. vedremo che questo percorso non è così lineare come sembra. Immaginate, è una calda sera estiva, uscite a fare un giro in bicicletta e attaccate la Dinamo. Pedalare diventa subito più difficile. Sentite questo maggiore sforzo con le gambe. Dovete non solo muovere la bicicletta, ma dovete dare una maggiore energia, un maggiore movimento anche alla Dinamo, che trasforma questa nostra fatica in elettricità. E la lampadina trasforma questa elettricità in luce. Produrre energia elettrica non è gratis. Il ciclista può essere definito come una fonte di energia rinnovabile. Nessuno ha mai visto uscire fumo nero dai pori di un ciclista. Al massimo, un po' di sudore. Ma quando si parla di motori elettrici, cambia qualcosa? Tutto dipende da chi sta pedalando al posto nostro. Se l'energia proviene da una centrale che brucia carbone, gas o petrolio, allora la nostra auto elettrica non inquina tanto meno di un motore di diesel o benzina. L'auto elettrica non inquina solo quando la fonte che fornisce elettricità è una fonte rinnovabile, come la luce del sole, il vento o il moto dell'acqua. Bisogna però considerare che nel mondo solo il 30% dell'energia prodotta proviene da fonti rinnovabili. E in Europa andiamo un po' meglio. Questa percentuale sale al 46%. Anche se non siamo proprio degli angioletti. Più della metà dell'energia elettrica che consumiamo in Europa proviene da paesi extraeuropei. Quindi il mondo inquina anche a causa nostra. La chiave è produrre tanta energia elettrica usando fonti rinnovabili. Magari usando pannelli fotovoltaici, paleoliche o turbine idroelettriche. Ma siamo veramente capaci di muoverci sulle nostre strade senza inquinare? Faremo un viaggio. Andremo in Norvegia, poi in Giappone e poi torneremo in Italia. In Norvegia vedremo un estremo, in Giappone un altro estremo. E l'Italia è un po' nel mezzo. La Norvegia ha un record. Nel 2020 è il primo stato al mondo che vende più auto elettriche che auto tradizionali. Questo dato da solo non ci basta. Dobbiamo anche considerare che più del 90% dell'energia elettrica norvegese proviene da fonti rinnovabili. Sono le turbine idroelettriche che pedalano per loro. Quindi zero inquinamento. In Norvegia abbiamo tante auto elettriche che consumano energia elettrica che non inquina. Andiamo quindi dall'altra parte del mondo, andiamo in Giappone. Il Giappone ha un altro record. Nel 2016 aveva più colonine per la ricarica elettrica che non pompe di benzina. E negli anni questo trend si è mantenuto. E quindi non ci sorprende che il Giappone sia la patria di Toyota, leader mondiale nel settore delle auto elettriche ed ibride. E non ci sorprende neanche allora che il Giappone voglia mettere al bando tutte le auto tradizionali a partire dal 2035. Quello che allora ci deve sorprendere è ciò che ha affermato l'amministratore delegato di Toyota nel dicembre del 2020. Più auto elettriche produrremo e più inquineremo. Non suona strano anche a voi? E non vi suonerà più così strano perché l'80% dell'energia elettrica giapponese viene prodotta a partire da combustibili fossili. Gas, petrolio, carbone. E quindi in Giappone abbiamo tante auto elettriche ma sullo sfondo tanto fumo nero di queste centrali. Torniamo a casa nostra, torniamo in Italia. L'Italia è un po' nel mezzo. Il 35% dell'energia elettrica italiana viene prodotta a partire da fonti rinnovabili. E ci stiamo anche dando da fare. Nel gennaio del 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha creato un bando per incentivare l'acquisto di auto pochi inquinanti. sono stati stanziati 250 milioni di euro per incentivare l'acquisto di auto tradizionali. Pochi inquinanti ma tradizionali. E ad oggi gli italiani hanno usato tutti questi fondi. Il Ministero però aveva stanziato anche 120 milioni di euro per l'acquisto di auto elettrica. e ad oggi è stato usato soltanto il 60% di questa somma. 46 milioni sono ancora fermi. Inutilizzati. Tutto il mondo sta andando in una direzione. E quando tutto il mondo va nella stessa direzione i risultati arrivano. Sempre. Quindi la rivoluzione elettrica della mobilità è inevitabile. Ma è anche necessaria. Perché ci dà la possibilità di muoverci sulle nostre strade senza inquinare. Basti pensare all'esempio virtuoso della Norvegia. Tutto il mondo sta quindi andando nella stessa direzione. Ma non siamo tutti allo stesso livello. Ci dobbiamo chiedere quanto tempo ci manca. Ma anche quanto tempo abbiamo a disposizione. Io non ho la risposta a queste domande. Ma voglio farvi riflettere su un componente centrale delle auto elettriche. Le batterie. Torniamo al nostro giro in bicicletta. C'è veramente caldissimo. Non vogliamo faticare ulteriormente. Compriamo delle batterie. Le colleghiamo alla nostra lampadina. E premendo un bottone. Abbiamo tutta la luce che ci serve senza faticare. Dobbiamo però chiederci. Quanto costano queste batterie? Quanto durano? E quanto tempo impieghiamo per ricaricarle? Quando si parla di auto elettriche abbiamo le risposte. Una batteria costa fra i 3.000 euro per un'utilitaria fino a 40.000 euro per una supercar. Facilmente un quarto del valore dell'auto. Possiamo percorrere 400 chilometri e per ricaricarle totalmente possono essere necessarie anche otto ore. C'è però un'altra domanda a cui non sappiamo rispondere. Dove buttiamo queste batterie una volta che sono diventate vecchie? E anche l'Europa si è fatta questa domanda. E per trovare una risposta ha stanziato un miliardo di euro da investire nella ricerca delle batterie. E nello specifico come smaltirle correttamente. Infatti le batterie sono ricche di materie altamente inquinanti. Anche il mondo dell'automotive sta andando in questa direzione. È una notizia di marzo 2021 che Audi ha sospeso qualsiasi investimento nelle auto diesel e benzina. E anche altre aziende stanno andando nella stessa direzione. Sembra che vogliono sopprimere i motori a combustione interna prima del tempo. Ma dobbiamo chiederci quante risorse servono per preparare strade e colonie per la ricarica? Per l'imminente fioritura dell'auto elettrica? Io personalmente mi faccio anche un'altra domanda. Ho studiato per anni i motori a combustione interna. Devo buttare via tutte queste mie conoscenze? Non sarebbe possibile unire i motori a combustione interna, l'elettrico, le fonti rinnovabili? Se vi dicessi che esiste un combustibile che non inquina. Chi ha sentito parlare di carburanti sintetici, detti anche i fuels? Vedo qualche mano alzata, ma vedo anche tante mani non alzate. Si tratta di combustibili artificiali. Alla base un combustibile è formato da idrogeno e carbonio. L'idrogeno è quella sostanza che troviamo comunemente nell'acqua. Il carbonio lo troviamo sotto varie forme, ad esempio nell'aria sotto la forma di anidride carbonica. Sarebbe possibile estrarre idrogeno dall'acqua, carbonio dall'aria, combinarli e ottenere questo combustibile artificiale. Ci serve però tanta energia. Potremmo usare energia rinnovabile, pannelli fotovoltaici, avere tanta energia pulita e gratuita. E invece di andare ad immagazzinare questa energia elettrica nelle batterie, che sono difficili da gestire, potremmo immagazzinarli in questo combustibile artificiale, che potremmo distribuire in tutto il mondo usando gli stessi oleodotti che abbiamo già e distribuirlo vicino a casa nostra usando le stesse pompe di benzina che sono già installate. Immaginatevi fra 15 anni, vi svegliate una domenica mattina, andate nel vostro garage, trovate un'auto del tutto simile a quella che avete già, benzina, diesel, metano. La prendete, andate a fare il pieno di e-fuel nella pompa di benzina dietro casa e poi vi muovete sulle strade senza inquinare. La chiave è proprio qui, non si inquina. A differenza del petrolio, che quando è sottoterra non fa danno, poi viene estratto, viene bruciato e libera nell'ambiente, nell'atmosfera, tanti inquinanti, fra cui l'anidride carbonica, gli e-fuel non inquinano. In teoria, quando io brucio questo combustibile sintetico, vado a ridare all'acqua l'idrogeno che ho chiesto in prestito e vado a ridare all'aria il carbonio che ho chiesto in prestito poco fa. Quindi sulla carta il bilancio è nullo. Partendo da fonti rinnovabili è quindi possibile creare questo combustibile sintetico che non inquina. Io vi ho semplificato moltissimi processi, ma la ricerca sta proprio andando in questa direzione e si stanno muovendo anche grandi investitori, come Enel e Porsche. Potremmo anche andare oltre le sole automobili. Una ricerca stima che ricoprendo di pannelli fotovoltaici un quarto del deserto del Sahara sarebbe possibile soddisfare l'intero bisogno energetico mondiale. Per concludere, il presente ci ordina, ci impone di rivedere la nostra idea di mobilità. Dobbiamo puntare sull'elettrico e sul rinnovabile. Ma non dovremmo trascurare di investire nei motori a combustione interna. Proprio perché la migliore soluzione potrebbe arrivare dalla collaborazione tra queste diverse tecnologie. Motore a combustione interna, elettrico e rinnovabile. Dopo tutta questa spiegazione, quale auto comprerete? Benzina, diesel, elettrico? Aspettiamo di avere gli fuel nella pompa di benzina dietro casa? Non aspettiamo 100 anni. Cerchiamo di realizzare la previsione di Edison e raggiungiamo i nostri obiettivi nei prossimi 15 anni. Grazie.